La bella ci vuole il frigo. Mi ha dovuto capire che il prossimo giorno mi sono provocato. Per dormire ho dormito di meno. Quando non mi prendo dormo di più. Quindi, cosa stai uccidendo? Poi 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 poi. Positivo, lei. Ah, te lo direi che l'ho fatta dormire, che ti faccio fare palestra. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Che cazzo allora. Allora ho fatto palestra. Ho la prima. Io ho messo il cuscino in bocca a mia moglie. Ho fatto palestra con la prima. Che mi mandano le porte di casa. All'interno vengono appuntati domani. E allora ci ho messo la mia moglie. Ha messo provito nella testa. Nelle porte, no? Nel bagno, nella stanza della letta. Però siccome i bambini magari poi sentono. Allora io ho messo il cuscino in bocca. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Lì, ma che è questa cosa del cCTatore senti solo il vesperare. Grazie per la visione